ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video quando ormai io ho una capigliatura che le wolverine spostati ormai perché sembro veramente preso da un film degli x-men dunque video non in programma ma che mi andava di me andava insomma di parlare di questo argomento è un titolo volutamente clickbaiting nel senso che se avete letto c'è un po ba juve fatta non è fatta niente chiaramente ripeto col titolo ho voluto cercare di pescare più gente a vedere questo video anzi io non solo vi dico che non è fatta po ba la juve ma questo è un video che ne farò altri è di calciomercato ci mancherebbe altro però voglio analizzare più che altro il momento invitandovi tutti a non prendere per oro colato tutto quello che vende che vedete sia in entrata sia in uscita cioè è chiaro che i giornalisti sportivi che campano di calcio in questo momento non hanno niente di cui parlare quindi ci sono delle trattative che sono alcune chiaramente inventati di sana pianta ad esempio oggi ho letto pianic de sciglio e 25 milioni per semedo ora adesso io non voglio dire pianic ha una valutazione di 80 milioni circa metti che ti fai lo sconto e vai a pagare 50 milioni de sciglio una valutazione di 20 milioni fai caso che de sciglio glielo regalo però ci sono 25 milioni di euro ecco io come posso dare a semedo una valutazione di 75 milioni cioè 65 milioni di euro è follia 75 milioni di euro per semedo può dire proprio che questa è una trattativa palesemente buttata lì per come posso dire per per vendere i giornali perché purtroppo al giorno d'oggi devi fare anche così devi fare anche così perché non c'è calcio giocato io oggi vi dico la verità non ho visto neanche una partita della bundesliga in diretta sto vedendo le immagini dopo e devo essere sincero io sono molto contento che si sia ricominciato a giocare e la germania ci ha insegnato che si può giocare infatti oggi i giornali parlavano tutto del tutti della bundesliga domani parlano tutti della bundesliga in italia ovviamente non possiamo parlare di calcio giocato per il momento spero che si potrà fare si potrà farlo per il futuro però voi mettetevi io mi metto i panni infatti non gliene faccio neanche troppo una colpa ma mi mettono i panni dei di tutti quelli che campano di calcio giornalisti eccetera detti ai lavori che si trovano praticamente per qualche mese a non parlare di niente dite come in estate in estate è meglio è diverso ancora perché in estate loro si trovano a parlare di calcio non parlare di calcio alla fine per un mesetto perché la stagione finisce a maggio poi giugno c'è sempre comunque mal che vada una coppa a coppa d'africa coppa di qua coppa di là ci sarà una coppa libertadores da parlare insomma qualche argomento di calcio giocato si trova sempre poi le squadre ricominciano e colmese li buttano calciomercato a manetta go go poi cominciano gli allenamenti ritiri quindi collegamenti e quindi poi dopo ci sono le tournée quindi tra calciomercato tournée ritiri calcio giocato perché ci sono amichevoli il mese le mesate passano qui effettivamente io mi rendo conto che la situazione com'è è tragica per per molti lavoratori di diversi settori me compreso è chiaro che anche per loro lo è perché loro non hanno di che parlare l'unica cosa che di cui possono parlare e caccia mercato e purtroppo ci sono delle notizie che secondo me sono un po campate per aria cioè non è che siano campate per aria questa di pianic de scilio e 25 milioni per semedo non è campata per aria è proprio una puttanation proprio nel senso una cosa inventata di sana pianta perché non credo mai poi mai che la juve abbia preso in considerazione una cosa del genere sarebbe da internare però vede anche Pogba io io ci spero che Pogba venga la juve ma non è questo il momento di pensare a Pogba che arrivi cioè o perlomeno non era il momento giusto per fare trattative quindi secondo me Pogba potrebbe anche arrivare alla juve ma il fatto che sia fatta non corrisponde alla realtà perché credo che molte squadre nessuna squadra in questo momento al mondo possa fare calciomercato il perché è semplice non perché non possono perché manca questo manca quello ma perché purtroppo la difficoltà in questo momento di tutte le società e soprattutto l'incertezza di sapere quello che succederà sta portando le squadre a non agire in nessun ambito quindi ripeto oggettivamente io ho fatto questo video vi chiedo scusa se avete aperto convinti di sentirmi dire che Pogba è fatta ma è un video che mi serviva la vostra attenzione proprio per spiegarvi che queste trattative in questo momento non possono essere così vicine alla chiusura possono esserlo perché tutto è possibile ma non prendete per oro colato queste cose anzi io sinceramente personalmente calciomercato in questo momento non lo sto ascoltando e secondo me dovreste fare così anche voi anche se mi mettono i panni di chi vende giornali e devono parlare di qualcosa chiaramente se avrò notizie di calciomercato un po' fonti sicure come ogni anno ve lo dirò sapete che io non mi espongo tanto sul discorso ecco prendete per esempio la storia dei contratti a zero cioè quelli che vanno via quello potrebbero essere fonti vere ad esempio la storia dell'inter che potrebbe prendere Mertens non è campata così tanto per aria nel senso che potrebbe essere una cosa che potrebbe anche succedere perché no perché a zero il resto sinceramente io adesso adesso con la ripartenza e l'incertezza della ripartenza il resto per me sono solo buttad per cercare di riempire trasmissioni giornali e li posso anche capire ma io ci credo veramente poco quindi ragazzi a me non resta che salutarvi darvi appuntamento con il prossimo video del canale fino alla fine Forza Juventus